Ciao a tutti, eccomi qua con questo nuovo progetto. È una sciarpa a scacchi. Ho scelto il colore grigio e il bianco. Con questo tipo di lavorazione la sciarpa è uguale sia davanti che dietro. La lavorazione è doppia. È molto facile da realizzare e molto bello. Se vi piace il video, iscrivetevi al canale. Ciao ciao! Iniziamo con 46 maglie di base. Ciao! Grazie a tutti. Adesso leghiamo il filo bianco con quello grigio. Iniziamo utilizzando tutti e due i fili. Utilizzeremo per 11 maglie il grigio dritto e il bianco rovescio. Grazie. Grazie a tutti. Adesso ho altre 11 maglie però con il bianco dritto e il grigio rovescio. Grazie. Grazie a tutti. Adesso ho altre 11 maglie dove il dritto sarà con il colore grigio e il bianco sarà rovescio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso ho altre 11 dove il colore bianco sarà dritto mentre il colore grigio sarà rovescio. Grazie a tutti. 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 Il primo non lo lavoriamo. Il primo filo è grigio, perciò inizieremo con il grigio dritto. Per cambiare il colore del quadratino, che adesso è bianco, lo faremo in grigio, basta che cambiamo il colore dei fili, perciò non iniziamo più con il filo bianco, ma con il filo grigio. Chiudiamo il lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.